Il progresso dell'uomo è strettamente legato alla sua capacità di comunicare e nell'ambito della comunicazione televisiva stanno avvenendo mutamenti che rivoluzioneranno il ruolo stesso del televisore. Löwe ha anticipato questi cambiamenti, creando televisori in grado di dialogare con i sistemi di comunicazione del futuro e di rendere più piacevoli le immagini, i colori e i suoni del nostro presente. TV Color Blue, per il mondo che cambia.